Ciao amici, benvenuti o bentornati sul mio canale. Vivo in un appartamento e per problemi di spazio non ho la possibilità di allestire un laboratorio per il fai-da-t. Nel progetto che vedrete ho realizzato un mini jigsaw table, ovvero un piccolo banco di taglio per piccoli lavori con il ligno. Prima di procedere ci tengo a precisare che il progetto non è inedito. Mi fermo qui con le chiacchiere e vi auguro buona visione. Grazie a tutti. 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 Ciao.